ciao ragazzi bentornati sul canale tutto tech oggi vi portiamo alla scoperta di cosa sta succedendo ad amazon ha ricominciato a tirar fuori prodotti in super offerta e stiamo parlando dei famosi eco dot eco show ha fatto degli sconti veramente incredibili addirittura le testate giornalistiche quelle che si occupano di elettronica in generale di tecnologia addirittura annunciano prezzi mai visti anche se io sinceramente qualcosina mi ricordo però sinceramente sono andato a controllare i prezzi effettivamente sono veramente bassi per quanto riguarda gli eco dot e gli eco show adesso andremo a vederli insieme quindi mi rivolgo a tutti quelli che hanno detto ma non lo so basta tanto quel prodotto non ho voglia di spendere tutti quei soldi beh amazon sta facendo venire l'acquolina in bocca a tanta gente quindi se fino adesso avete tergiversato adesso non potete più farlo quei prezzi che facciamo vedere oggi secondo me parecchi di voi possono o entrare nel fantastico mondo della domotica low cost passato il termine oppure qualcuno può ampliare il proprio parco macchine diciamo della domotica low cost non perdiamo tempo adesso faccio comparire qui lo schermo del cellulare e andiamo a vedere in diretta insieme quali prodotti sono da acquistare per poter entrare in questo fantastico mondo andiamo siamo nella via amazon non perdiamo tempo inseriamo qui eco e attiviamo anche il prime così facciamo una scrematura subito ci compare le codote di quarta generazione per chi non sapesse che cos'è quando era cercare qui sotto il video nei vari video che abbiamo fatto perché l'abbiamo recensito si parte da un prezzo di 59 euro e 99 e come potete vedere è sceso alla 50 per cento 58 per cento 24 euro 99 stiamo parlando di un prodotto del nostro assistente boccale con una forma diversa dal solito e che ha una capacità audio sicuramente superiore ai suoi predecessori anche tante caratteristiche tecniche che sono state aggiunte a questo prodotto e che ne fanno sì che ne valga la pena se volete cominciare se poi siete proprio dei neofiti avete dei dubbi non volete proprio spendere delle cifre esorbitanti beh a 19 euro e 99 con uno sconto del 60 per cento abbiamo le codote di terza generazione ha una resa audio leggermente inferiore abbastanza inferiore diciamo della eco show di quarta generazione ma vi consente di gestire tutto il parco di prodotti che ci potete abbinare e anche lì vi invito a scorrere qui sul canale e troverete veramente tantissimi accessori da poter abbinare per rendere la vostra vita la vostra casa smart procediamo abbiamo le co show di quarta generazione la versione un po più grande a 64 euro 99 dal prezzo di partenza di 99 euro con uno sconto del 35 per cento qui abbiamo l'altra versione con un colore differente le codote di quarta generazione con l'orologio e lo trovo molto comodo io questo qui l'ho acquistato per la cameretta di mia figlia così non ha più scusa la mattina quando si sveglia vede anche l'orario e si deve per forza alzare dal letto scherzi a parte per il prezzo di partenza 69 euro e 99 scontato del 50 per cento per arrivare a un 29 euro 99 poi andiamo sugli eco show quindi quei prodotti che hanno anche il monitor potete da qui vedere anche sky tg24 le previsioni meteo il video di amazon prime se avete l'abbonamento amazon prime potete vedere youtube e tante tante altre cose tutte queste cose le trovate sempre nei video che scorrendo qui sul canale troverete dedicati a questi prodotti abbiamo l'eco shot di prima generazione il modello del 2019 qualcuno dirà beh ma un po' obsoleto vuol dire se volete fare un passaggio da un ecodot normale ad un eco show questo sicuramente vi aiuta nell'acquisto si partiva da un prezzo di 109 euro e 99 con uno sconto del 41 per cento si è arrivati a 64 euro 99 quindi vedete amazon sta veramente impazzendo per queste cose le sta veramente spingendo tanto vorrà dire che è pronto qualche eco magari di quinta generazione chi può dirlo noi non appena sapremo qualcosa anche un vociare che ci può essere ve lo diremo immediatamente non cambiano purtroppo i prezzi per quanto riguarda gli eco show 10 e penso anche il 15 andiamo a vedere se ce lo propone il nuovo eco show 15 questo addirittura è nel bundle con il supporto inclinabile a 279 euro 98 quindi nobido conferma per adesso non c'è nessuna scontistica bene ragazzi il video si conclude qui queste erano le scontistiche che amazon ha pensato di portare in questo periodo prima delle ferie perché poi di solito verso settembre ottobre inizia a sfornare qualche novità però vi ripeto se anche coloro che non hanno ancora un eco a casa vogliono prendere l'ecodot ad esempio di terza generazione con il 19 euro 99 non ha nulla da invidiare tanti altri prodotti certo è che se volete una qualità audio superiore allora cominciate ad andare su un eco dot di quarta generazione volete invece vedere qualcosa sul vostro eco quindi passate all'eco show sicuramente dovete spendere qualcosa in più però vi ripeto con una spesa minima rispetto a quello che a volte abbiamo speso noi per poter acquistare determinati eco avete comunque un parco di prodotti che vi consentono di gestire tutta la domotica di casa di tutti questi prodotti che troviamo su amazon vi lascio qui sotto il link in descrizione vi basterà semplicemente andare a cliccare su quello che vi interessa vi rimanda direttamente ad amazon con questo gesto che a voi non costa assolutamente nulla neanche un centesimo in più a noi arriva una piccola quota da amazon veramente base ma che può aiutare il nostro canale a essere finanziato per poter presentarvi nuovi prodotti che usciranno noi vi ringraziamo se farete questo gesto che per voi veramente costa poco e per noi invece vuol dire veramente tanto vi ringraziamo nuovamente perché abbiamo superato i 9100 iscritti andiamo verso i 9200 ma il nostro obiettivo speriamo speriamo entro fine d'estate fine anno di arrivare a 10 mila speriamo che voi ci smentiate invece si arriva un po prima ma siamo contenti così bene ragazzi io direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo e ricordatevi iscrivete attivate la campanella e ogni qualvolta riuscirà un nuovo video compariremo noi se vi fa piacere al prossimo ciao